Antonella del Core, due anni dopo di nuovo in Azzurro, una bella vittoria per iniziare? Sì, una bella vittoria, una bella emozione, anche a questo bellissimo pubblico, palco come il palazzetto, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo rispettato quello che c'eravamo detto e comunque fuori un bel 3 a 0. Entra nel vivo una lunga estate Azzurro? Sì, assolutamente, questa è la prima di tante amichevoli e siamo un preludio del Grand Prix.